La fine di Pasquale Ricucci, detto FICSEC, segna un passaggio cruciale nelle dinamiche criminali del Gargano. La sua morte rappresenta un durissimo colpo per il neonato clan Lombardi Ricucci-Latorre, già ai minimi termini a causa della detenzione di Matteo Lombardi e della latitanza di Pietro Latorre. Gli eredi del gruppo di Mario Luciano Lomito cedono così il passo agli acerimi rivali del clan dei montanari di Bergolis Miucci, guidato da Enzo Miucci, detto Creature, e dal fratello Dino. La scesa di Miucci sarebbe inarrestabile e darbbe via l'alleanza bianca della cocaina sul promontorio garganico. Dopo la saggia di San Marco Illamis del 9 agosto 2017, le uccisioni di Francesco Pio Gentile e adesso Ricucci, i nemici dei montanari rischiano l'azzeramento messi all'angolo dal gruppo di Miucci. Tutto ruota intorno al grande business della droga, al centro della guerra di mafia che imperversa danni sul gargano. Dopo la vittoria sul proprio territorio di Monte Sant'Angelo, a scapito dei primosi Alfieri, la sede di potere degli Bergolis Miucci è proseguita con l'uccisione dell'ultimo Dero Mito, ovvero Mario Luciano, eliminato oltre due anni fa per le confidenze dei carabinieri, la storia delle cimici nella masseria ortifrenti, e anche perché è poco inclina ad entrare nel mondo degli stupefacenti. Stessa condanna toccò al fratello Franco nel 2009. E la cocaina a fare gola, soprattutto quella che viaggia dalla Colombia all'Olanda per poi giungere a Vieste, Manfedonia, Foggia e Barletta, vicende raccontate dalle carte giudiziarie sulla strage di San Marco in Lamis, che hanno in serbo molti altri colpi di scena, non emersi nell'ordinanza cautelare e che evidenzierebbero il ruolo centrale di Enzo Miucci. L'uomo, al momento sotto il regime della sua violenza speciale, terrebbe le fila dei traffici, anche grazie alla storica alleanza con i foggiani sinesi Francavilla e con il gruppo viestano guidato dai cugini Iannoli. Inoltre risulterebbero contatti anche con la malavita barlettana. Gli inquirenti non escludono che proprio da Foggia, con il sostegno di qualche pregiudicato garganico, siano giunti i sicari di Ricucci. Anche esponenti di gruppi criminali rivali, alcuni in carcere, altri in libertà, stanno scendendo a patti per assicurare il proprio territorio di competenza ai voleri superiori, vedi San Marco in Lamis. Intanto il sangue continua a scorrere sulla montagna sacra, nonostante gli sforzi della squadra Stato e dell'attuale prefetto Raffaele Grassi. Anche lo strumento dell'interdittiva antimafia non starebbe fornendo gli effetti sperati, basti pensare che attività riconducibili ai ribergoli smiuci non sono state scalfite da tali provvedimenti. Ben tre i comuni della zona sciolti per mafia negli ultimi quattro anni, Mote Sant'Angelo nel 2015, Mattinata nel 2018 e Manfedonia quest'anno. Ciò non basta a frenare la smania di potere dei clan locali. Nella chiesa il vescovo Franco Moscone non si presentò nei migliori dei modi quando disse di non sapere dell'esistenza della mafia sul Gargano. Infelice anche la sua frase Chi tocca Don Luca tocca me. In riferimento al paroco di Mattinata che negava la mafia pur banchettandoci ad Astice e Champagne e infine riconvertito sulla via di Damasco, impegnato integralmente con la retorica dei convegni autoreferenziali.